In una delle elezioni comunali del 26 e 27 maggio c'è un'importante novità, debutta la doppia preferenza di genere. Cosa vuol dire? Sì esatto, doppia preferenza di genere, questa sconosciuta vorrei dire, vuol dire che alle prossime elezioni troverete sulla scheda elettorale per la prima volta due righe. Queste due righe serviranno per dare due preferenze ma di genere diverso ad un uomo e ad una donna. Non è una legge obbligatoria, si può ma non si deve. Secondo noi si deve però perché per favorire la democrazia paritaria non a favore delle donne ma proprio a favore della democrazia. Molti interpretano questa legge come un privilegio per le donne ma noi vogliamo ribadire, voglio ribadire che questa legge è una democrazia in quanto le donne hanno acquistato il diritto di voto dal 1946 e fino al 2001 avevano soltanto il 10% di rappresentanza. Questa legge è un nuovo strumento che servirà. Non sappiamo quanto sarà fondamentale, sarà sicuramente migliorabile, in questa fase elettorale è uno sperimento. Vedremo che risultati avrà, però invidiamo soprattutto le donne a votare donne e a sapere soprattutto che quelle due righe non sono per commenti come qualcuno ha voluto dire ma sono per scrivere due nomi diversi. Nei comuni sopra a 5.000 abitanti si potrà votare con la doppia preferenza di genere.